sarò molto molto concreto diretto e non prolisso non prolisso attenzione notizia simpatica simpatica perché simpatica chi fa pensare allo stesso tempo perché il sito centro meno destra punto it ha fatto un sondaggio dicendo votate quelli che secondo voi sono gli opinionisti i giornalisti preferiti più più seguiti di fatto del 2023 bene ci sono anch'io nell'elenco premetto e quindi ci sono anch'io ovviamente cerco il vostro voto se no sarà il coglione non chiederlo ok e attenzione il sito premettendo che il sito centro destra non dice gli opinionisti di centro destra e vi dimostrerò il perché perché nel sondaggio ci sono anche gente come mentana e il travaglio del caso gente che è tutt'altro che di centro destra e hanno messo tutto l'elenco dei 37 dei 40 opinionisti più diciamo conosciuti in rete ne mancano mancano alcuni nomi degli amici tra parentesi manca il colombini del caso che anche se direttore dell'orchestra fa da opinionista manca sandro l'amico sandro torella che anche lui fa da opinionista dei numeri molto importanti e di questo me ne dispiace però detto questo la cosa strana la cosa strana che per me non è strana perché noi la verità la conosciamo ma la cosa particolare amici e amiche è una che nella classifica vi farò vedere la classifica una settimana dal voto a dal da questo sondaggio a una settimana dalla partenza del sondaggio vi farò vedere la classifica la cosa molto strana è che tra le prime dieci posizioni praticamente sette ottonomi ma è compreso siamo gente che contro assolutamente il sistema o meglio gente che non la pensa come impone il popolo del pensiero unico quindi pensiamo che l'europa sia da mettere in discussione pensiamo che quello che ci propinano abbia bisogno di chiarimenti e che ogni dubbio è lecito insomma gente che dal primo momento ha sempre messo in discussione tutto quello che questo ordine mondiale ci ha voluto propinare questa minestra riscaldata che hanno provato a proporci andiamo al sodo come suggerito da un utente al quale ho già risposto gioachino ciao gioachino ciao stefi adesso non mi interessa di quanta gente ci sarà collegata in questo momento farete in tempo a riguardare la diretta indifferita quindi andiamo direttamente al sodo nonostante i pochi collegati ma non voglio perdere tempo guardate la voce del centrodestra ha creato questo sondaggio per la precisione il 28 di dicembre io l'ho preso due tre giorni dopo e ho messo subito il in subito suggerito messi in moto i miei amici dicendo dai datemi un voto datemi un voto e lo sto ancora chiedendo quindi c'è nel nel testo del post troverete il link allora in sostanza hanno fatto questa cosa qua sondaggio opinionista dell'anno vote i migliori tra giornalisti influencer e blogger fin qua tutto tutto ok e una volta era solo relativamente ai giornalisti oggi hanno deciso di integrare altri altre figure tra le quali anche gli opinionisti e gli influencer allora quali sono i giornalisti gli influencer e blogger che avete seguito con maggior interesse nel 2023 potete votarne fino a tre nel sondaggio sull'opinionista dell'anno quindi l'opinionista dell'anno allora in sostanza la cura di giorgio la porta e ogni giorno sui canali tv sui social e sulle colonne dei quotidiani si stiamo a avere proprie battaglie senza esclusione di colpi dice questo giornalista e tra opinionisti giornalisti blogger influencer e l'anno scorso lo stesso sondaggio per il giornalista preferito ottenne 100.000 voti con francesco borgonovo daniele capezzone mario giordano e raccolsero un vero e proprio tripudio di preferenze e anche quest'anno è così però la cosa ancora più particolare qual è quest'anno hanno integrato anche oltre ai volti storici della tv c'è vespa floris mentana giordano del debito formigli lili gruber andiamo a vedere la classifica perché hanno inserito noi tra virgolette opinionisti quindi c'è l'amico matteo gracis la mitica pub satira paola ceccantoni c'è matt carlus ci sono io c'è matteo brandi e insomma una diciamo una nuova schiera di opinionisti e ci ora borselli e chiara giannini vorrei ricordarvi che io papa bel satira e non siamo televisivi cioè secondo me manco ci chiameranno mai quindi andiamo a vedere la classifica però come sta andando e questa è la cosa curiosa però io non partirei dalle non partirei dal primo ma partirei dall'ultimo andiamo a vedere chi c'è in fondo intanto la classifica allora sono intanto sono 21 sono hanno già raccolto quasi 10.000 voti allora martemirta merlino è ultima alberto chiapparoni chiara giannina qua 014 carrado formigli bassissimo paolo sansonetti 025 matteo grandi 027 floris 028 la gruber 29 029 paola gomez qua siamo proprio in fondo della classifica 032 la gabanelli 44 mentana 049 non lo vota neanche il nonno e abbiamo la chirico 050 apparenza 051 giubilei 058 vespa 075 poi abbiamo l'amico sallusti amico sallusti 1.03 non è molto votato marcello veneziani 1.21 ranucci 1.22 travaglio 1.47 e sono personaggi televisivi e addirittura alcuni direttori anche di quotidiani importanti e quindi feltri 1.58 abbiamo del debito 1.83 e siamo già in ambito televisivo del debito un personaggio conosciuto e caruso 2.37 poi c'è riccardo pugliesi 2.55 matteo brandi grande personaggio 2.66 qua saliamo andiamo già praticamente nella top 10 abbiamo di giuseppe cruciani 3.24 e tommaso cerno 4.69 qua inizia la cosa particolare abbiamo alessandro meluzzi sicuramente non è allineato al sistema ed è uno che ha sempre contestato al 4.89 per cento grandissimo voto nicola porro 5 per cento a volte contestatore a volta lineato ci sono io la 5.04 davanti a porro poi c'è l'amico matteo gracis a 5.29 e le mario e mario nazionale a 6.98 belpietro 7.46 borgo novo 8.49 abbiamo pabbel satira e la rivelazione dell'anno 10.60 e primo capezzone col che distacca tutti col 14 e 74 comunque io sono sono onorato di essere qua è il che fosse un con sondaggio di centro destra di centro sinistra poco importa a me uno vale l'altro è un sondaggio e fine e comunque daniele capazzone primo seconda pabbel satira terzo borgo novo il più votato per ora in italia maurizio belpietro e quarto quinto mario giordano sesto gracis settimo robbi giusti vacca boi e poi abbiamo nicola porro ottavo nono meluzzi chiude la top 10 tommaso cerno poi c'è cruciani brandi e tanti altri amici la cosa sicuramente è particolare perché ho fatto il sondaggio per prendere voti certo votatemi no a parte le battute e perché è una cosa interessante vedere che la gente paradossalmente non segue chi è allineato al sistema chi in questi tre anni ha detto fate il green pass vaccinatevi comprate l'auto sapete come ma quelli che dicono l'esatto contrario quelli che o meglio che hanno il coraggio hanno tutti questi tutti noi abbiamo il coraggio di esprimere un'opinione in pieno diritto di cronaca in pieno diritto da costituzione quindi mario giordano fa le sue battaglie capezzone fa le sue e francesco borgo novo è venuto nelle piazze più volte con noi gracis è uno che fa come meglio grazie ci diamo dentro pabel satira non ne parliamo anche lei meluzzi pure amici che si facciano delle domande se i primi in top 10 praticamente ci siamo solo noi e tutta la gente come mentana and company e in fondo alla classifica nessuno se li considera forse un motivo ci sarà a questo punto ditelo voi nei commenti detto questo forse ecco perché vogliono censurare chi dice la verità perché la gente non è dalla parte di quel pensiero unico che vogliono imporci ma è dalla parte delle cose vere dalla parte di chi a differenza dei censori dice la verità e non pubblica fake news come hanno fatto fino ad oggi tutti quelli che dovrebbero essere i paladini della verità ciao a tutti ciao buona buona giornata buona domenica vi chiederei di condivere ovviamente questa notizia come vedete su 330 mila persone che mi seguono siamo in 174 collegati fa capire che da fastidio da fastidio ma noi non ce ne frega niente vedete io con la maglia più qua nella maglia defend italy noi difendiamo l'italia difendiamo l'informazione italiana quindi ciao mentana noi difendiamo l'informazione italiana non tu ciao a tutti